Nel caso specifico che vi stiamo mostrando stiamo eseguendo un ribassamento con veletta che ospiterà l'alloggiamento per i faretti LED. Il ribassamento a soffitto verrà realizzato attraverso dei montanti adeguatamente ancorati a soffitto mediante gli appositi pendini. Questo ribassamento creerà una veletta a sbalzo, come abbiamo già detto, che ospiterà questi LED a diffusione e nei pannelli di cartongesso verranno poi praticati dei fori per l'alloggiamento dei faretti, per l'illuminazione, in questo caso, della sala. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.